Buongiorno signore, sono Bonatti Carlo, detto il tenore del castello di San Secondo, tenore autodidatta, ex saldatore, vi saluto tutti, sto eseguendo la romanza della bohème La gelida manina. Buongiorno signore, sono Bonatti Carlo, detto il tenore del castello di San Secondo, tenore autodidatta, ex saluto tutti, sto eseguendo la romanza della bohème La gelida manina. Chi sono? Chi sono? E che faccio? E come vivo? Vuole? Chi sono? Chi sono? Sono un poeta, che cosa faccio? Scrivo? E come vivo? Vivo in povertà mia lieta, siano da gran signore, rimedimmi d'amore, per sogne, per chimere, per castelli in aria, l'anima mia oniglionaria. All'ora del mio portiere, rubano tutti i gioielli, due latri e gli occhi belli. L'entrare con voi pur ora, e di dei sogni usati, e di dei sogni miei. L'entrare con voi pur ora, e di dei sogni, due latri e di dei sogni, due latri e di dei sogni, due latri e di dei sogni. Orche mi conoscete, parlate voi, me parlate chi siete, vi piaccia dir.